Ciao ragazzi e bentornate sul canale, oggi video spacchettamento Avon campagna 13 innanzitutto è arrivato il solito cartaceo oltre alla fattura e le offerte riservate a noi presentatrici in particolare vi voglio far vedere la copertina del catalogo di campagna 15 e questo che sarà valido sia per la campagna 14 che per la campagna 15 ed è uno speciale inserto, quindi è un cataloguino, a tutti gli effetti sono diverse pagine ed è un catalogo in cui Avon lancia alcune collaborazioni importanti con la marca DIM, 1R, la Globe quindi qui troverete tantissime ed è regalo anche di marchi abbastanza conosciuti iniziamo subito con lo spacchettamento i primi prodotti che vi voglio mostrare li troverete nel catalogo di Natale, quindi nel 14 in promozione, è un set a 4,50€ che ha così composto dal barattolone dell'Avon Care io ho preso questa profumazione qui, il burro di cacao questo è il solito barattolone da 400ml per viso, mani e corpo eccolo qui il set si completa con la crema mani e il lip balm tutto questo lo troverete in catalogo ad un prezzo straordinario di 4,50€ io credo che sia un'ottima idea regalo per fare una bellissima figura e spendere poco poi di bigiotteria, questo ve lo faccio vedere al volo perché non posso aprirlo, non è mio un braccialetto rigido questo è dedicato al segno zodiacale del toro quindi troverete tutti i simboli dedicati al toro e c'è ovviamente per tutti quanti i segni zodiacali poi questa donante prima sono le maschere della Planet Spine tessuto monouso che verranno lanciate nei prossimi cataloghi ad un costo di 2,50€ e io vi posso mostrare la Radiant Gold che è questa e quella all'olio di argan ce n'è una terza che è all'olio di oliva a me purtroppo non è arrivata, me la dava già in spediremo sicuramente saranno prodotti che avranno un gran successo e spero che arriverà poi con il prossimo pacco continuo con un altro prodotto che è questa qui è un prodotto di bigiotteria arriva in questa scatolina all'interno della quale si trova la confezione regalo e questa è la collana, guardate che bella presentata molto molto bene anche queste sono idee regalo veramente ad un costo molto abbordabile e carino, questo viene poco meno di 10€ però ecco arrivano già confezionate la bigiotteria Avon è mediamente molto buona poi andiamo avanti con questo che è già uscito da un po' di in un po' di campagne fa ed è il portafoglio eccolo qui è molto grande per darvi un'idea questo è il catalogo la misura standard del catalogo non è tanto più piccolo fatto così il colore è un rosso corallo questo che vedete sotto questo ripiego qua e questo è l'interno poi sempre abbinato al portafoglio questa è la borsa Lora quella grande eccola qui questa è veramente bella grande all'interno ha anche la tracolla poi altra borsa questa è possibile prenderla nel catalogo 13 acquistando un solo prodotto a 12,99€ vedete che bella questa io ho già la conosco l'ho già vista è molto molto grande in questo caso non si ha tracolla ma soltanto così alla lampo ed è devo dire molto carina la potete acquistare vi ricordo al costo di 12,99€ acquistando un solo prodotto da catalogo campagna 13 questa ragazze non ve la apro perché l'avete già vista nel precedente spazzamento è la casual top white lace che è la magliettina blu con lo scollo a V dietro che questa praticamente ti ho indosso adesso quindi scollo giro collo davanti e dietro uno scollo a V con del pizzo quindi questo non ve lo apro perché lo trovate già nell'altro catalogo mentre questa è un'anteprima che troverete poi voi nei prossimi cataloghi e anche l'ultimo prodotto che ho da mostrarvi ed è questo vestito vediamo qua com'è la taglia è la 4850 ecco questo è un vestitino blu ha le maniche fatte così cerco non so se arriva poco sopra il ginocchio eccolo qua molto semplice blu semplice semplice e il tessuto è un maglioncino leggerissimo con questo ho chiuso vi ho mostrato tutti i prodotti che ho ordinato in campagna 13 e tutte le anteprime che avevo da mostrarvi spero che il video sia passato di vostro gradimento se è così iscrivetevi al canale alla prossima